Noi la sottoscriviamo, io in quanto rappresentante del Movimento 5 Stelle di Torre del Greco e del gruppo territoriale e candidato sindaco garante della coalizione. Hanno sottoscritto l'agenda di governo dei cittadini. Ieri la conferenza stampa congiunta dell'ex deputato e coordinatore locale del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo e del candidato sindaco Luigi Mennella. Un documento con il quale si impegnano pubblicamente di fronte ai cittadini a realizzare un'agenda progressista, ecologica e sociale che apra ad una nuova stagione di legalità e trasparenza. Abbiamo scritto insieme un'agenda di governo per i cittadini. È la proposta del Movimento 5 Stelle che ha messo sempre a cento i temi che sono reddito di cittadinanza qualora il governo intervenisse a toglierlo ad alcuni cittadini torresi ma le politiche sociali e le politiche del lavoro non esistono su questo territorio e vogliamo incentivarle. È un'agenda per riportare l'acqua alla gestione pubblica. È anche un patto anti-astensionismo perché chiediamo un rinnovo totale del prossimo esecutivo nei nomi e nei fatti ma anche i principi del Movimento 5 Stelle sulla legalità e la candidatura quindi casellario giudiziario pulito, carichi pendenti saranno allargate stavolta un'intera coalizione e ritengo che non è una cosa da poco perché significa che si presentano tanti tantissimi candidati con le fedine penale pulita e che vogliono dare un segnale di discontinuità. La firma nella sede del Comitato elettorale di Via Vittorio Veneto sancisce ufficialmente un accordo che era nell'area già da alcune settimane in vista delle prossime elezioni amministrative in programma a maggio a Torre del Greco. Insieme lavoreremo per il futuro della nostra città. Sono le parole dell'Avvocato Mennella nel segno della discontinuità con gli esecutivi precedenti. Oggi è una storica giornata, posso dire, si è allargata la nostra coalizione con i 5 strelle e tutti insieme lavoreremo per cambiare il futuro di questa città. Noi ci crediamo, vogliamo che Torre del Greco sia di nuovo la città che è al centro, vogliamo che l'ente comune sia l'ente a supporto della cittadinanza e non viceversa così come ha già ribadito prima nella conferenza stampa. Abbiamo anche parlato di questo protocollo di legalità proprio perché ci teniamo tantissimo perché anche comunque noi nella nostra condizione ci teniamo ad avere con noi persone e candidati che abbiano il casellario giudiziario con scritto nulla sopra e quindi per un fatto anche più goliardico che un altro mi è piaciuto l'idea di portarmelo a presso. Lo sono fatto fare e ho detto così come avete visto in conferenza stampa. Noi proseguiamo avanti tranquilli per la nostra strada, siamo maniche alzate al lavoro per la città di Torre del Greco e sono sicuro che arriveremo fino alla fine.